Sgombrare il campo da considerazioni affrettate sull'immigrazione con l'utilizzo di dati precisi e rigorosi è l'obiettivo dell'osservatorio regionale dell'immigrazione annunciato nella giornata dedicata a immigrazione, imprese e lavoro al Teatro della Compagnia di Firenze. L'evento, organizzato da Regione Toscana, IRPET e ANCI, ha fatto il punto sul fenomeno migratorio e sul suo impatto sul tessuto economico regionale. Noi siamo impressionati da una sorta di invasione che viene detta. In realtà è dal 2014 che nella nostra regione sostanzialmente non ci sono cittadini residenti stranieri in più, quelli in più sono sostanzialmente i nuovi nati. I dati spiegano che in Toscana una persona ogni 10 è straniera, a differenza dell'opinione diffusa, per cui ci sarebbero 3 stranieri ogni 10 persone. Resta da capire con esattezza quale sia l'impatto sul PIL degli stranieri e quali politiche adottare, non solo per l'integrazione ma anche per la formazione nell'ambito delle politiche attive del lavoro. Integrare meglio la formazione, sempre mettendo in relazione quelle che sono le richieste del mercato del lavoro con quelle che sono le politiche formative, gli interventi formativi, è una base di partenza importante. Gli stranieri regolari in Toscana sono circa 408 mila, quelli che stanno nelle strutture di accoglienza sono 13 mila e circa 35 mila persone. L'1% della popolazione è con permesso di soggiorno scaduto o senza permesso di soggiorno o in transito dalla Toscana. Fare di tutto un erbo a un fascio è il primo errore che si fa quando si affronta il tema dell'immigrazione perché una cosa sono i regolari e una cosa sono gli irregolari. E anche gli stessi stranieri regolari c'è molta differenza fra chi ad esempio è extracomunitario o ha un permesso di soggiorno di lunga scadenza e non destinato a scadenza, sono circa il 67% degli extracomunitari residenti della nostra regione, chi invece ha un permesso di soggiorno soggetto a scadenza sono invece circa il 37%. I dati che saranno raccolti attraverso l'osservatorio regionale sull'immigrazione serviranno a dettare l'agenda delle politiche sui territori a partire dalle amministrazioni comunali. Da parte dell'amministrazione comunale quello che deve essere fatto è quello di una inclusione migliore possibile per queste persone, in modo tale che possano lavorare e possano costruirsi una vita all'interno delle regole, all'interno dei diritti che ci sono per tutti anche sul nostro territorio.